Il Consigliere regionale Con una firma e una stretta di mano il Governatore ha promesso di tutelare il diritto alla salute e ripristinare tutti i servizi negli ospedali dell'entroterra Con Ivan ci siamo rivisti era un po' che non ci vedevamo, siamo molto amici è stato molto bravo anche il Presidente Ceriscioli si è reso disponibile è rimasto favorevolmente impressionato da Ivan e dall'energia che Ivan sprigiona quando si parla di sociale e quindi abbiamo rasserenato in qualche modo Ivan che le cose stanno andando abbastanza bene naturalmente c'è bisogno di una riforma sanitaria a livello regionale, le cose non stanno andando come dovrebbero andare ed è anche per questo che i cittadini ci hanno votato sei mesi fa Nella delibera fatta il 22 dicembre prosegue il Consigliere, c'erano due cose che non andavano bene la prima era quella della lungodegenza che andava a sparire a favore delle cure intermedie la seconda, molto più grave era relativa ai punti di primo intervento previsti solo per 12 ore al giorno per questo in Commissione Sanità di cui fa parte anche tale si sono battuti per riportarla ad H24 una volta modificata la delibera prosegue non ci dovrebbero più essere problemi per il pronto soccorso negli ospedali dell'entroterra e a quel punto alla protesta dei cittadini preoccupati per il futuro della sanità ci potrebbe stare ma non quella a livello politico L'ospedale di Cagli di Sosso Corvalo e di Fossombrone i tre ospedali non verranno assolutamente chiusi e i punti di primo intervento saranno H24 con tre medici un medico ospedaliero un medico del 118 e un medico della continuità assistenziale quindi della guardia medica se la promessa poi non verrà mantenuta Ivan Cottini è pronto a dare di nuovo battaglia intanto dopo aver sospeso i farmaci da due giorni ha ripreso a curarsi e ad assumere vitamine ma non senza conseguenze il testimonial di AESM infatti come racconta in un video pubblicato sui social era così debole che non riusciva nemmeno a prendere sua figlia in braccio ma se da una parte può ritenersi soddisfatto per l'esito dell'incontro con Talè e Ceriscioli dall'altra è rimasto deluso dalla poca partecipazione alla manifestazione di protesta avvenuta in piazza Rubino durante la conferenza dei sindaci di Aria Vasta ma la sanità è un problema che riguarda soltanto i vecchi o riguarda tutti o sono solo io l'interessato lo sfigato che ha 28 anni è interessato alla sanità perché sta male i giovani che devono cambiare il mondo che devono essere le persone più incazzate che vanno lì che vogliono spaccare tutte e cambiare le cose di questo mondo che non va bene dove erano oggi? e sono molto arrabbiato purtroppo sono molto arrabbiato perché credo che così le cose non cambieranno mai e ogni giorno che passa sarà sempre pezzo per me e per tutti